Il contagio è in crescita esponenziale tra i bambini in età scolare, attualmente i meno vaccinati, mentre diminuisce nelle altre fasce di età. Se da una parte la vaccinazione a giocare un ruolo determinante, le regole che innescano isolamento, quarantena e dad, didattica a distanza, diversamente applicate tra elementari, medie e superiori, non stanno dando l'effettivo giovamento auspicato. Il nodo della scuola resta il più difficile da gestire a tutti i livelli, sanitario e burocratico amministrativo. In appena sei giorni sono più di 17.000 gli studenti positivi al Covid-19 nelle scuole della Toscana, con ogni nuovo caso di positività in classe che fa tremare i dirigenti scolastici. Non ce la facciamo più, bisogna semplificare il grido d'allarme lanciato da Alessandro Artini, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi per la Toscana. Noi le regole le rispettiamo, spiega, ma il Ministero dell'Istruzione ci venga incontro, se, tanto per fare un esempio, in una classe vengono accertati due contagi, possiamo mantenere in presenza gli studenti vaccinati o guariti da almeno 120 giorni. Tutti gli altri, invece, si collegano da casa e le difficoltà per i docenti sono moltissime. Devono fare i conti con schermi che non si attivano, connessioni difficoltose, mentre l'altra parte degli studenti, quelli in presenza, si deconcentra. Siamo stati i primi, noi dirigenti scolastici, a chiedere che la scuola restasse in presenza, ma visto che con il virus dovremo conviverci ancora per molto, una soluzione deve essere trovata e presto. E proprio nelle scorse ore di questo ha parlato anche il sottosegretario al Ministero della Salute, Andrea Costa, secondo cui i vaccinati dovrebbero rimanere sempre in classe. Per i più piccoli, invece, ha detto, dobbiamo considerare che ha una platea minore di vaccinati. Costa propone di semplificare il sistema dei tamponi, in particolare per il rientro in classe. Il grande numero di tamponi che ogni giorno viene fatto nel nostro paese, dice, sta mettendo in difficoltà anche le aziende sanitarie. Quando un ragazzo va in dad per 10 giorni, se per 10 giorni è asintomatico, credo si possa prevedere il rientro in classe senza il tampone. Grazie a tutti.